Una storia lunga, vent'anni, che ora è al capolinea. Almeno questa è l'intenzione del governo regionale. La regione molise è intenzionata a vendere la sede di rappresentanza a Bruxelles e per questo ha approvato uno schema di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse. Il prezzo di base di vendita dell'immobile, che ha una superficie complessiva di 750 metri quadrati, è fissato a 1,6 milioni di euro. In caso di reperimento di soggetti interessati, si legge nella delibera di Palazzo Vitale, si procederà alla redazione di una perizia di stima aggiornata, all'inserimento dell'immobile nel piano delle alineazioni immobiliari e alla pubblicazione del relativo bando di vendita, avvisando gli interessati che hanno manifestato interesse all'acquisto. L'immobile necessiterebbe di interventi di ristrutturazione, al momento ospita solo due dipendenti regionali. La considerevole disponibilità di spazi, dunque, risulta eccessiva per le esigenze della Regione Molise, che potrebbero essere soddisfatte con una sede di dimensioni notevolmente più ridotte, di più semplice gestione e con minori costi di manutenzione. Inoltre, l'investimento economico richiesto per la ristrutturazione, ad oggi non disponibile, unitamente alle pesanti spese di gestione e di manutenzione, risulterebbe sproporzionato rispetto ai benefici attesi dall'utilizzo. Nei mesi passati, tra l'altro, la sede era stata occupata da senza fissa dimora, che avevano anche causato danni per circa 15.000 euro.